Ho testato l'Interstellar su un paniere di azioni. Sono le prime 40 dell'SP500 del mercato azionario americano per capitalizzazione. Quindi abbiamo tradotto tutte le aziende più famose negli Stati Uniti sostanzialmente. E comunque più grandi, certo, non c'è Uber, che potrebbe essere definita famosa, ma le più storiche, le più importanti, ci sono tutte. C'è Apple, JP Morgan, Walmart, Alibaba, Coca-Cola, eccetera, eccetera, su time frame daily. In data 2, quindi come serie storica benchmark con la quale calcolare la correlazione, quindi l'allargamento dello spread, ho messo SPY. SPY è l'ETF non armonizzato più grande al mondo, replica l'SP500 e non è l'unica scelta che si può fare. Nel senso che come benchmark si può utilizzare anche il Nasdaq, si può utilizzare anche il Dow Jones, si può utilizzare un ETF che replica il mercato mondiale. Non è peregrina come idea. Perché ho utilizzato l'SP500, SPY? Per semplicità. Semplicemente perché è la correlazione più netta, ecco, d'altronde queste aziende sono dentro SPY500, quindi la correlazione è molto evidente. E in questo caso è proprio, ce lo possiamo immaginare come un elastico attorno a SPY, perché SPY, cioè l'SP500, è per definizione la media delle azioni presenti. Poi ci sono dei calcoli particolari per pesare ogni azione, per carità, ma è la media, nel senso che il suo prezzo è il risultato delle performance delle azioni contenute. Quindi quando un'azione si allontana dalla media, per definizione la possiamo immaginare come un elastico sostanzialmente, quindi funziona molto bene. L'ottimizzazione l'ho fatta calcolando 10.000 dollari per ogni azione. Quindi vedo se riesco a farti vedere, eccolo qua, questo è il codice. Se ti ricordi, noi possiamo scegliere che strumento utilizzare. Ho selezionato lo strumento 2 e lo strumento 2 prevede di utilizzare un capitale fratto close. E il capitale è 10.000 dollari, ok? Quindi, senza leva, 10.000 dollari utilizzati per ogni azione allo scopo di ottimizzare un paniere. Questa è la cosa più importante da capire. Interstellar funziona molto bene sui panieri, io non trado i panieri. Si fa un test di portafoglio sul paniere, si analizza in modo anche grezzo da un certo punto di vista il funzionamento di Interstellar. Si prendono queste informazioni come 1. Garanzia di performance. 2. Garanzia di validazione. E in seguito si prende l'Interstellar, lo si applica sulle singole azioni. È la strada che consiglio. L'ottimizzazione l'ho fatta dal 2005, sarebbe potuto andare un po' più indietro, ma ci sono azioni quotate dopo 2010. Io volevo comunque un 2008 interno, cioè volevo la crisi, la grande recessione dentro. Mi sembra un buon compromesso, 18 anni quasi, di storico, considerato anche la lentezza e l'impiego del computer per una backtest simile. Che cosa ho ottimizzato? Ho ottimizzato, vi faccio vedere da qua, perché io l'ottimizzazione l'ho già fatta partire e non la voglio perdere. Ho ottimizzato motore da 1 a 12. Come ingresso ho selezionato il 5, quindi l'ho selezionato a mano, non l'ho ottimizzato. Che ingresso è? Eccolo qua. Ingresso solo long, 5. High stop. Ok? Adesso prendiamo anche il 6. Però ottimizzare il motore era un problema per l'aumento del numero di combinazioni. Quindi motore 5 ottimizzato. Dopo vediamo il 6. Ingresso, ho detto motore, no? Ingresso 5, dopo proviamo il 6. Motore da 1 a 12. Lunghezza l'ho ottimizzata da 5 a 30, come specifico nell'altra lezione. So, le ipercomprate o ipervendute non le ho toccate, non mi interessa. E uscita long ho fatto da 2 a 8 con step 2. Quindi da 2 a 8 giorni con step 2. Sono venuto fuori circa 300 combinazioni, poco meno. Non è conveniente quando si ottimizza un paniere ottimizzare uno stop loss e un take profit monetario. Al massimo uno stop loss e un take profit di volatilità. Si può fare? Non l'ho fatto perché non mi sembrava il caso. Il risultato dell'ottimizzazione è questa qua. Queste sono le performance delle 30-40 azioni che abbiamo preso in considerazione. Il primo risultato è 537.000 dollari con 12.000 trade, 105.000 di drawdown. L'uscita spesso è 8 o 6, quindi dopo 6-8 giorni passa un po' di tempo, ci sta che non sia 2, esce dopo 2 giorni. La cosa interessante è il motore. Il motore principale che è venuto fuori è il 10, poi c'è 1, 4 e ancora 10. Andiamo a vedere brevemente. Il motore che è venuto, diciamo così, più performante è il motore 10. Eccolo qua. Test convergenza spread 4. Quindi utilizziamo il quarto tipo di spread e abbiamo la versione più morbida. Quindi abbiamo solo una selezione di prezzo, quella sul data 2. Ok? Spread largo, data 2 in ipervenduto, vendo perché suppongo che data 1 sia in ipercomprato. Gli altri motori, diciamo il secondo e il terzo di ogni sezione di motore, ha anche la conferma in data 1. Il 10 non ce l'ha e ha funzionato, ha funzionato meglio questo in particolar modo. Anche l'1, ci tengo a farti vedere, che è la stessa cosa semplicemente utilizzando uno spread diverso. Quindi 10, 1, 4, ma anche 7, sono tutti i motori uguali, semplicemente con spread diversi. Quindi evidentemente è stato premiato un motore più semplice, senza la doppia conferma del prezzo. Può dire qualsiasi cosa, può voler dire qualsiasi cosa questa cosa che ti ho detto. Prendiamola per così com'è, è un dato di fatto. Prendiamo il secondo risultato, perché ha il drawdown più basso, da 537 a 105.000 dollari. 537 fratto 105, il rapporto tra net profit e drawdown di 5,11. Il secondo risultato invece, 492 fratto 68 di drawdown e 7,3, che è un po' più alto, preferisco per questo. Il secondo risultato mi sembra migliore. E andiamo a vedere il performance report. Eccolo qua. Ricordo che siamo dal 2005, quindi c'è questo drawdown del 2008, c'è il drawdown del 2020 e del 2022. Sono performance molto 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 positive, chiaramente andiamo sempre solo long, su azioni non andare mai short. Le performance, dicevo, sono assolutamente molto positive. proviamo a vedere se non si impalla annual period analysis, ok. Anni negativi. Anni negativi il 2008, il 2015 un pochettino, il 2018 un pochettino e il 2022 l'anno peggiore. assolutamente coerente con l'andamento dell'indice in generale. Appunto, stiamo testando una logica molto funzionante su un paniere. non è che questa logica su un paniere di 40 azioni diverse deve dare il risultato necessariamente migliore al benchmark. Non è assolutamente detto. Per quanto riguarda i singoli simboli, ce ne sono pochissimi negativi. United Health, che è la più grande compagnia di assicurazioni statunitense. Alibaba, anche perché è crollato tantissimo Alibaba, ha fatto tipo almeno 80%, quindi ci sta che sia negativo. Coca Cola un pochino negativo, Oracle un pochino negativo. Cisco già un po' più negativo, ha perso il 24%, il sistema ha perso il 24% dei 10.000 di capitale. Verizon, Morgan Stanley di 50%, questo ha perso parecchio. Probabilmente il 2008 che incide su Morgan Stanley mi viene in mente, effettivamente ha perso tanto nel 2008. E un po' AT&T, che è la compagnia di telefonia. Andiamo a vedere quelli che hanno guadagnato di più. Abbiamo un Apple, che è un sistema praticamente perfetto. Ecco, prendi queste impostazioni, lo metti su Apple, ci metti stop loss, take profit, regoli due viti qua e là e sei a posto. Ci lei già. Microsoft, un pochino peggio. Abbiamo Google, 28.000 dollari, molto bene. Abbiamo Amazon, questo è un modo per ottenere performance molto buone da azioni che vanno bene, con minor drawdown però. Tesla, 57.000 dollari. Ad esempio, qua non c'è tutto il drawdown recente di Tesla, che ti ricordo ha fatto qualcosa come il meno 40%, il meno 50% del genere. Invece si comporta assolutamente molto bene. Nvidia, 34.000 dollari. Molto molto bene. Facebook, 20.000 dollari. Eh, ha retto, non ha subito il drawdown che in realtà l'azione ha subito questo sistema. Poi, 17.000 dollari. Ah, VGO? Non mi ricordo esattamente bene che cos'è, ma è molto buona. Qua, ovviamente, il valore assoluto dell'azione non influenza l'equity line. Cioè, Visa potrebbe aver avuto un'equity line bellissima e aver guadagnato pochi soldi. come Berkshire Hathaway, che ha guadagnato relativamente poco, meno di 10.000 dollari, ma l'equity line è molto molto buona. Disney, 14.000 dollari. ABBV, azienda farmaceutica. MA, Mastercard. Male Walmart, un po' mi sorprende. JP Morgan, ha subito il 2008 ma poi si è ripresa. Cos'altro abbiamo? Netflix, molto molto bene. TXN, se non vado a errata una compagnia petrolifera, non vorrei dire cavolate. 12.000 dollari sono relativamente pochi, ma la performance è assolutamente molto molto buona. UPS, la famosa compagnia di spedizioni. UNP, United Pacific, Ferrovie, se non vado a errato. Accenture, molto bene. Consulenza. Nike, o Nike. Danaer è una compagnia molto interessante, è un conglomerato tipo Berkshire Hathaway. Insomma, le performance sono molto buone. Il paniere reagisce molto bene e Interstellar ha dato prova della sua robustezza. Giusto per divertirci, proviamo una soluzione diversa. non con il motore 10, ma col primo risultato utile con il motore 1, il cui, ti ricordo, l'unica differenza è il come è calcolato lo spread, non il funzionamento del motore di per sé. E vediamo il risultato. Urca. Dico, già Urca, perché il 2008 non l'ha subito. Wow. Sorprendente. Cioè, mi sorprendo anche io. è una performance, da un certo punto di vista, parecchio interessante, molto migliore di quella precedente, direi. Comunque ha degli anni negativi e anche non di poco, 2010-2011, hanno subito parecchio, parecchio. Strano, non sembrava. Eh, questo periodo qua. Ecco, questo periodo qua è quello che ha fatto la maggior parte del drawdown. Vediamo un po' i singoli simboli. Mi sembra di vedere colpo d'occhio, sì, più uniformità. Ci sono meno simboli negativi. PFE è Pfizer, poi CVX è Chevron, petrolifera. BMI, oddio, è una banca, se non vado errato, ma mi scordo, è negativo e è il nostro famoso AT&T. Comunque fa abbastanza schifo come azienda. Record, abbiamo 27 di Apple, 37 di Nvidia. Wow, che equity line pazzesca. E capisci bene che ha un valore particolare questa equity line, per diversi motivi. Uno, l'idea di base che è molto robusta. Due, il vantaggio su cui prendiamo profitto, che è estremamente efficiente. Tre, la validazione. Questo trading system è venuto fuori, ottimizzato su 40 strumenti differenti. Quindi, ottimo. Adesso prendiamo questa impostazione, la mettiamo su Nvidia, giriamo gli ultimi bulloni, validiamo e siamo a posto, siamo molto più tranquilli. 37.000 su Nvidia. Mastercard, molto bene. HD, Home Depot, non male, non male. Avigo ancora, equity line, fantastica. cost, poi... eh sì, il record è di Nvidia. 37.000 dollari mi sembra proprio il record. Netflix molto bene, UNP molto bene, tante aziende hanno fatto molto bene. Forse con questo motore la media è migliore della media dell'altra configurazione. però ci sta. Vale assolutamente la pena approfondirla, ecco. Molto bene, molto bene. Questo è il nostro Interstellar. Solo.